buonasera buonasera bentrovati nuovo appuntamento con leader questa sera avremo il piacere di parlare di un argomento che vi sta particolarmente a cuore parliamo di automobili e magari utilizzando il termine automobile diciamo che sminuiamo una figura importantissima nel panorama delle quattro ruote parliamo della ferrari e abbiamo il piacere di avere come ospite qui presso i nostri studi il presidente del ferrari club italia vincenzo gibbino grazie grazie del dell'invito è un saluto a chi ci segue allora so che gli appassionati sono veramente tanti anche perché abbiamo fatto un'operazione di divulgazione del momento abbiamo detto guardate che sarà il presidente del ferrari club italia da noi e parleremo di cose importanti che stanno particolarmente a cuore a tutti coloro che amano le vetture le vetture che hanno segnato lo sport lo a livello internazionale noi siamo innamorati tutti dalla ferrari sono innamorati nel nel resto del mondo paradossalmente ancor più di quanto lo siano gli italiani per per anni il il nome simbolo ferrari è stato il brand più importante al al mondo e ancora oggi l'idea di ferrari come ha impostato il rapporto della sua azienda che vendeva delle vetture a dei privati in funzione del risorso di denaro che gli servivano per correre cosa che è assolutamente al contrario di quanto accade nelle altre case dove si si corre e poi si cerca anche di vendere qualche vettura sono differenze sostanziali sono differenze sostanziali e i nuovi la nuova classe dirigente oggi in ferrari riesce ancora a interpretare perfettamente il il volere il pensare di di enzo ferrari che ancora oggi è assolutamente attuale certo ecco una delle cose fondamentali che io voglio chiedere a livello di curiosità faccio le domande vorreste porre voi perché so che siete veramente in tanti e volete sapere per esempio che emozione si provano a stare su una ferrari perché tanti la ferrari l'hanno apprezzata ammirata sono fatti in quattro per arrivare a seguire anche una gara insomma a spendere tantissimi soldi per riuscire a partecipare all'evento e però ecco l'emozione di poter essere su una pista tra l'altro tu ce la puoi raccontare perché ti vediamo spesso impegnato abbiamo anche delle immagini che ti vedono proprio protagonista su una ferrari a misano cioè ecco questo sono resta sì qui siamo in in gara misano misano adriatico è un circuito molto tecnico molto complesso ideato per le moto poi hanno modificato il senso di circolazione oggi si si fanno anche le importanti gare con con le con le ferrari con le mai per con le vetture questo è una 488 evo è una macchina che più o meno in configurazione di di questo tipo di gare va sotto circa i 700 cavalli è una macchina che certamente va guidata avendo acquisito molte delle patenti speciali non si può accedere a questo tipo di se non si è fatto un po di gavette se non si fatti una serie di corsi però è una vettura che ferrari ha sviluppato e che consente al gentleman driver lo individuiamo così cioè il pilota non professionista cioè il pilota che ha fatto una serie di corsi ha corso per tanti anni ma di raggiungere quasi l'utilizzo del 90 95 per cento delle potenzialità della vettura il 100 per cento lo lasciamo i piloti professionisti ma è una vettura che consente di andare fortissimo in tanta sicurezza su che velocità siamo così dipende dai circuiti se andiamo su monzo ovviamente raggiungiamo i 300 all'ora come a a imola sui sui rettifili ma quello che conta è la capacità di queste vetture di avere una percorrenza in curva quindi di spostare il limite di frenata molto più avanti quasi dentro la curva e di poter accelerare il prima possibile è lì che si fa il tempo non tanto sulla velocità del rettifilo quanto sul su ciò che accade nelle nelle curve nel questa è la capacità di pilotare praticamente si vuole monta dimestichezza si vuole dimestichezza però ripeto è una dimestichezza che dopo qualche tempo l'acquisiscono tutti i gentleman driver tutti i piloti la differenza la fa la vettura cioè la confidenza che la vettura ti dà di poter raggiungere il suo limite senza averne paura ma quasi dominandola allora tu conosci il tuo cavallo divento tutt'uno con te e quindi fai delle cose che quando le vedi in televisione oddio ma sono io che sto facendo una roba lì non la farò mai più se ti porti una persona a fianco a volte si possono montare dei sedili speciali per portare delle persone a fianco tu vedi che siamo abituati a frenare a 300 400 500 metri da un ostacolo noi fermiamo freniamo a 70 metri devi forzare il tuo cervello per dire non ti preoccupare come il giro precedente la macchina si fermerà ed entrerà in curva come tu vuoi ma ogni ogni curva te lo devi dire te lo devi ricordare ci vuole proprio una particolare attenzione non puoi nemmeno un decimo di secondo distrarti ci sono degli allenamenti poi ti ridò alla domanda successiva ci sono degli allenamenti speciali che per esempio si fanno nel periodo invernale quando si corre poco e sto facendo anch'io hai un tuo preparatore quindi fai una serie di allenamenti dove porti a uno sforzo particolare il corpo a un equilibrio una serie di muscolare che normalmente noi non utilizziamo ma nel frattempo alla fine dell'allenamento dopo un'ora ti iniziano a fare delle domande sulla matematica sulla lettura in modo tale da vedere quanto a flusso sanguigno riesci ad avere nel cervello per gestire questi momenti particolari non abbiamo più vent'anni ma corriamo con delle macchine particolarmente performanti quindi è corretta una preparazione fisica anche da questo punto di vista è un po come andare in aereo praticamente perché se tu prendi un brevetto per poter portare un piccolo aereo devi sempre fare una avere una preparazione una base fondamentale per per evitare che possa accadere qualcosa di spiacevole fai encefalogrammi fai le prove da sforzo per rinnovare la patente ogni anno queste cose vengono seguite un grande attenzione con da acisport che diciamo che la il braccio armato di aci che gestisce regolamenta e autorizza tutti i tipi di gare ecco parlando di orgoglio di essere un ferrarista no da presidente voglio dire hai una piantina praticamente di tutto il territorio nazionale partiamo da qui dov'è che vedi che c'è più attenzione più trasporto a parte vabbè il paese di origine però ecco dovendo guardare un po all'italia dov'è che tu riscontri una maggiore partecipazione va di pari passo con la con la con la cultura e con il rapporto che singoli territori la socialità ha verso le cose che accadono non non posso dire che al sud ci sia più calore rispetto al nord è un modo di esternarlo totalmente diverso al nord parlo quando utilizzi la vettura magari nelle strade quindi mi riferisco agli eventi come la mille miglia cioè molto glamour dove c'è molta partecipazione la coppa d'oro delle dolomiti lì si avvicina il nonno piuttosto che il nipote che gli spiega i particolari eccetera e c'è più tecnica più tecnicalità nell'approccio con la vettura forse ne sanno anche ora più di noi e quindi studio alcune voe ma non sa che 27 anni fa fu fatto un modello con lo specchietto insomma così c'è l'abitudine ad andare negli autodromi noi al sud non ne abbiamo a parte uno molto piccolo in in puglia per il resto da da rom in giù non abbiamo nulla se non per gusa ma fa un'attività limitata con grande sforzo da parte dei loro degli amministratori ma è sostanzialmente un po tagliata fuori al nord invece c'è l'abitudine di andare negli autodromi che sono aperti al pubblico non si paga quindi l'autodromo pubblicizza le attività che vengono fatte e di conseguenza se non è ovviamente la formula 1 che si che è molto costosa per il resto tu vedi tante persone che possono accedere al paddock quasi si avvicinano al box e quindi seguono con molto interesse al sud invece c'è un un rapporto sicilia piuttosto che nel napoletano molto molto diretto tu hai quasi sei una parte della loro famiglia e ti danno la battuta che gli capita in quel momento che può essere positiva come come negativa ma ti racconto un'altra cosa particolare il 2019 ho vinto il campionato del campionato italiano velocità della montagna con la 458 challenge evo centro sud per il gt e il secondo posto del campionato italiano del gtk sono tecnicalità comunque chi ci ascolta capace che sa tutto sta scrivendo probabilmente ah sì sì l'ho visto e lì corri in mezzo alla gente facciamo il caso della sicilia la catania etna quando corri in mezzo alla gente ti faccio la differenza di cosa vuol dire correre con la ferrari o correre con qualsiasi altra vettura a prescindere dalla posizione che raggiungi parti quindi devi fare il tuo tempo e poi torni giù e rifai la seconda gara quando torni giù affronti il pubblico che ti ha visto in salita che tu non hai visto perché stavi a cercare di evitare di sbattere sui muri e andavi veloce al ritorno invece trovi ti racconto un caso pioveva ero a fare una gara europea in in umbria e avevo preparato la macchina che poi andò bene per la gara 2 perché avevo un assetto misto nella prima parte della gara in gara 1 invece pioveva e quindi ovviamente la macchina aveva meno grip rispetto a chi l'aveva solo preparata per la pioggia quindi in quella in quella gara lì nella gara 1 prendo il terzo posto e davanti avevo se non erro una due porsche una porsche non mi ricordo quando sono tornato giù ho detto oddio il pubblico mi ammazza perché con la ferrari non mi sono fatto battere dalla porsche bene quella porsche davanti fu lasciata andare dal pubblico non l'hanno considerata anche ma non l'hanno neanche visto guardata eppure è una ottima vettura e sono venute a festeggiare me che ero con la ferrari rossa con una mamma che mi prende il bimbo me lo infila dentro la macchina mi apre lo sportello e mi chiede quasi la benedizione del bambino questo è il rapporto il rapporto che ti crea questa vettura questo mito quando la la conduce per le strade o la conduce in pista tu sei un'altra cosa e ti chiudo questo argomento in formula 1 la ferrari non vince vince delle dei gran premi fa pole position ma non vince da anni il campionato mondiale eppure non c'è pilota della formula 1 che che abbia vinto o che non abbia vinto che non voglia iniziare o concludere la sua carriera almeno sedendosi dentro una ferrari e facendo un campionato del mondo e da quel momento lui diventa un mito mentre in altre condizioni devono dire a sai con questa vettura ha vinto sette campionati del mondo e potete dire che un grande pilota e infatti infatti perché ora è una vita per questo ti dicevo il miracolo di enzo ferrari che viene questo cavallino e quel cavallino e questa particolare luce che che irraggia la vettura e la stessa vettura riflette verso chi gli sta intorno ma io vorrei farti questa domanda tu sei siciliano catanese insomma vivi la nostra terra anche se spesso sei a bologna insomma sei fuori per impegni lavorativi ma è utopia o utopistico pensare che si possa fare qualche cosa per la sicilia per esempio con la vastità territoriale che ha di fare qualche cosa che possa richiamare non dico una corsa però qualche cosa che possa essere bello da godere da vedere insomma perché quando per esempio ti faccio un esempio il giro d'italia passa dalla sicilia le piste tutti a all'epoca di i grandi campioni c'è la fame la voglia di vedere grandi appuntamenti cosa riuscirebbe a dare una ferrari in sicilia su una pista su qualche cosa di creato di nuovo che diventi una piattaforma di sviluppo per il nostro territorio allora questo è assolutamente possibile ti dico il caso specifico di quest'anno allora riavvolgiamo il nastro di 70 anni il gran premio di siracusa formula 1 non era un gran premio iridato quando si dice la ferrari si va bene l'alfa romeo allora tutte le case mercedes il gran premio di formula 1 in realtà era un'apertura di stagione non iridato cosa vuol dire chi vinceva o chi partecipava a quella gara ancorché raggiungesse le posizioni importanti non acquisiva punteggio ai fini del campionato mondiale ma tutti venivano a siracusa perché poiché c'era un clima favorevole nei mesi di febbraio marzo prima che iniziasse il campionato era possibile testare le vetture in un circuito molto la banca di prova la banca di prova oggi dove andiamo a testare in bahrain ad abu dhabi perché lì c'è un clima favorevole oggi la logistica è una cosa molto più sem costosa ma tutto è costoso in questo mondo ma molto più semplice i nostri io ho due soci che partecipano al campionato europeo e quest'anno lo farò anch'io del challenge che per allenarsi mettono le macchine cioè tutti caricano le macchine non pensate che le macchine vanno sul camion poi vanno sulla nave vengono caricate in aereo quindi raggiungono il luogo di destinazione si corre per una settimana si fanno tutti i test di gomme di tessuti di tute di particolari di telemetrie eccetera in quella settimana il pilota si toglie da dosso un po la ruggine dell'inverno e affronta la prima stagione che sarà la prima gara sarà i primi di maggio a mugello cosa voglio dire questa cosa non si sarebbe potuta fare in sicilia ovvio che sì infatti è questo in più la sicilia offre nel patrimonio monumentale ambientale culturale enogastronomico ma segnatamente monumentale un patrimonio straordinario di stratificazioni di culture per cui tutti quelli che dovessero venire qua tra virgolette ad allenarsi poi avrebbero la distrazione di allungare di qualche giorno o anticipare di qualche giorno per vedere il teatro greco di siracusa piuttosto che i tempi di agrigento certo è infatti per questo che dico ma perché noi ci vuole volontà ecco ma noi non abbiamo avuto visione o quantomeno coloro che hanno in qualche modo cercato di fare qualche cosa qui sono stati molto limitati e come se avessero si fossero accontentati del piccolo la parola giusta è accontentati accontentati ti dico una cosa che ho inventato nel 2010 pensato nel 2009 è fatta nel 2010 e che non oggi si fa nel 2009 la targa florio classiche si era ridotta 6 7 macchine cioè era una sorta di tributo alla la gara della targa florio che si celebrava tantissimi anni fa e non andava nessuno sicché mi venne l'idea di copiare il format della mille miglia che oggi si fa come rievocazione anche se una gara di regolarità ma non di velocità di copiarlo sicché prendo appuntamento con il delegato marketing di ferrari c'era allora alonso seduta al tavolo ma non partecipava a questa discussione il braccio destro di montezemo e gli racconto cosa volevo fare quindi chiamarlo targa florio nome noto a tutto il mondo anche se avessi se in realtà saremmo andati a organizzare un giro di sicilia toccando appunto tutti i vari pezzi mi dicono guarda organizzolo tu il primo anno se va bene poi lo facciamo io ci lavoro però voi permettete che almeno per i prossimi cinque anni investite somme di denaro per vedere di fare decollare la gara in realtà il primo anno va bene dal secondo anno tra l'altro abbiamo fatto passare da catania più volte già raggiungemmo oltre 270 equipaggi provenienti da tutto il mondo con varie tipologie di vetture ancora oggi la targa florio per come l'ho pensata io col tributo ferrari con oltre 130 ferrari che vengono oltre le classiche si continua a fare il mese di settembre il motivo per cui si fa a settembre ottobre perché gli interessi di ferrari erano quelli di mantenere la mille miglia in funzione mi dissero sì ma non ne possiamo fare due contemporaneamente prenditi un periodo che non è quello di aprile quando maggio quando si fa la mille miglia il motivo per cui diamo la chicca si fa in settembre ottobre è perché la mille miglia si si fa in aprile maggio in barra giugno possiamo e chiesi poiché ovviamente c'erano dei costi e veniamo ai costi e dissi la mettiamo come target di costo al 50 per cento del costo della mille miglia oggi si fa la targa florio al 50 per cento della mille miglia cosa voglio dire che se persone capaci lungimiranti che partono da una voglia di un siciliano non di riscatto di questa terra che non ne ha bisogno ma di volontà di farla conoscere in tutte le sue straordinarie bellezze se non ci piangiamo addosso e diventiamo veri ambassador orgogliosi di questa terra ovviamente non possiamo che ottenere dai tante persone che amano questo territorio e se ci vengono ci vogliono tornare la possibilità di sviluppare tante cose da fare nel turismo ed anche nel motorismo e nello sport ecco questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi noi come gruppo editoriale abbiamo abbandonato il fatto che ci sono le cosiddette lacrime postume vogliamo evitare che siano le lacrime postume vogliamo invece pensare che si possa fare qualcosa per questa terra e perché nessuno ti regala nulla tu hai già tutto ciò che serve per mettere in piedi un contesto di attrazione perché tutti amano la sicilia parliamoci chiaro il problema è che poi non riesce a mantenere saldo questo amore perché non riesce a dare le cose che sono anche elementari parlando di turismo perché se tu hai una città per esempio come catania dove c'hai personaggi che hanno scritto la storia la nostra storia berga bellini insomma personaggi molto importanti e poi vai ad agrigento ma per andare agrigento non riesce ad arrivarci perché sono le strade che non che non sono idonea se a siracusa dove c'è un patrimonio incredibile da visitare vai a taormina giardini in axos insomma anche a palermo un po dappertutto con tutte le caratteristiche di un'isola di un'estensione territoriale mostruosa rispetto al resto e tu non riesce a dare le risposte corrette perché ti accontenti della politica dei piccoli passi dice ma questo non lo posso fare sono altre cose no tu devi cercare di fare tutte le cose che sono funzionali questo e fare qualcosa di particolare tutto infatti questo è quello che è che vai da altre parti dell'italia a parità di tasso di tasse e ti ritrovi a poter utilizzare quattro corsie perché ti ritrovi il manto stradale che funziona perché ti ritrovi i parcheggi nelle città dove devono esserci piuttosto che no perché i trasporti pubblici devono funzionare e continuo e noi no perché possono avere l'opportunità di spostarsi con i mezzi pubblici sotto terra su gomma su rotaia o eventualmente con la macchina e noi solo con la macchina e con le strade che non sono adeguate perché dobbiamo aspettare che chissà chi debba decidere che le cose vengano fatte nessuno ti regala niente come hai detto tu orgoglio di appartenere a una terra straordinaria e tutte le cose devono essere fatte contemporaneamente e attenzione lo dico ai telespettatori che ci seguono da tutto il resto d'italia e la sicilia è stufa di essere dipinta come la regione che chiede 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 o pretende la sicilia ha maturato una consapevolezza che quella che i giovani vogliono trasmettere perché sono i giovani che ci dicono a noi che abbiamo forse i capelli bianchi svegliamoci facciamo qualche cosa mettiamoci nelle condizioni di poter rendere questa terra fruibile a tutti i livelli il turismo lo abbiamo detto è eccezionale perché quello che possiamo dare noi in sicilia non so quanti regioni e quanti luoghi nel mondo più che regioni possano vantare il problema è la visione la possibilità e la capacità di fare ora siccome tanti siciliani hanno colonizzato diciamo che sono stati in giro per il mondo e hanno portato ricchezza perché dobbiamo dire questo allora noi la ricchezza vogliamo anche mantenere sul territorio per far sì che l'italia possa crescere tutte insieme e che non ci siano disparità che ci sia la possibilità di avere le piste le ferrovie le autostrade insomma i servizi la possibilità di muoverti per il territorio nazionale ecco io dico e faccio questa domanda perché vincenzo gibbino oltre a essere il presidente di questo importante club nazionale che rappresenta i colori della nostra italia è stato anche senatore quindi voglio dire senatore in un momento tra l'altro importante nel panorama italiano ecco guardando al passato ma guardando soprattutto a quello che è il futuro augurandoci che possa realmente per esempio c'è il ponte sullo stretto di messina che sarà sicuramente una svolta epocale no per far sì che ci sia qualcosa che possa finalmente cambiare ecco ma guardando qui in base all'esperienza passata tu hai un rammarico qualche cosa che pensi che poteva essere fatto prima e si è perso come sempre tempo allora il rammarico no per quanto mi riguarda e sono qui forse un po arrogante però io tutto quello che potevo fare l'ho fatto il rammarico è il fatto che ma non riguarda solamente la sicilia cioè da un certo punto dell'italia in giù da un certa latitudine una certa latitudine c'è un modo forse di dire come se gli altri ne hanno diritto e noi se lo facciamo dopo ne facciamo la metà va bene lo stesso ci accontentiamo ci accontentiamo e questa cosa secondo me deve assolutamente interrompersi nella nella dinamica del lavoro dell'entusiasmo che soprattutto hanno i grandi ora i grandi scusami giovani e su quello che può fare la sicilia la sicilia sviluppa turismo che può essere in qualche misura paragonato a malta che non ha niente è vero è proprio fatto un esempio tutto il rispetto che posso dare un esempio condivisibile però contemporaneamente non posso che fare i complimenti agli amministratori di malta che non riescono a fare miracoli questo cosa vuol dire che si può fare tanto e bisogna crederci nel campo del del motorismo ora ho spostato poi gli interessi della della politica sono in tutti i bordi nazionali che si occupano di turismo e di motorismo quindi dalla città dei motori anci che l'associazione dei comuni all'asi che l'auto moto club si occupa di veicoli storici in italia così come all'interno dell'aci e abbiamo stiamo lavorando con il ministero del turismo per aprire la quarta gamba non c'è dubbio che si viene in italia per i monumenti per la gastronomia in qualche misura con le per la moda anche se in effetti molti marchi sono stati venduti comunque la moda ancora in italia è sempre presente sempre presente la quarta potrebbe essere quella del motorismo perché la motor value tutto quello che abbiamo sviluppato in termini di motori e certamente riconosciuto nel mondo agli italiani non con tutti il rispetto ai cinesi ai giapponesi e quant'altro abbiamo la ferrari di la maserati la lamborghini ho insufflato nel cervello della mia amica daniela santanchè che la quarta gamba per poter venire in italia poteva potesse essere il motorismo con tutto ciò che collegato non semplicemente le corse ma il design e la cultura tutto ciò che ne concerne e quindi abbiamo fatto una prima esperimento l'anno scorso che ha riguardato una settimana che si replica anche quest'anno in cui tutti i comuni che fanno in qualche misura sono legati al motorismo tengono aperti musei e organizzano manifestazioni approfondimenti presentazioni di libri coinvolgimento di stakeholder e quant'altro in quella settimana lì in un periodo che non deve essere di alta stagione perché questo legato a un progetto questo qui diamo una notizia che può servire ai giovani che sta costruendo l'europa quindi segnatamente l'italia e quella del il ministero il di castello che se ne occupa e quello del ministero del turismo per cui si va a descrivere al resto del mondo che vuole venire in in italia non che ci sia il colosseo la torre di pisa che tutti sanno che c'è ma che in certi periodi dell'anno la moda piuttosto che il motorismo piuttosto che l'energastronomia possono trovare un motivo in più per venire e quindi anziché andare in luglio e vedere il colosseo magari che sento pure caldo vado in settembre così coniugo la mia passione di vedere una cosa particolare sul motorismo sull'automobilismo sul design insieme ai monumenti che certamente vedrò perché sono lì e non li tocca nessuno questo è un hub che si creerà in europa e in italia che in alcuni stati credo la spagna arriverà fino a consentire la prenotazione degli hotel e nei ristoranti mentre so che francia italia si fermano un attimino prima cioè ti danno il contenitore ma non ti arrivano fino a consentire questo e sarà visibile a partire dalla fine del 2024 fruibile da parte di tutti quelli che vorranno prendere informazione e venire in italia bene perché i siciliani non raccolgono questo testimone non iniziano a spingere perché all'interno del del ministero del del contenitore web in cui ci sono tutte queste cose si possano descrivere più siti della della sicilia da vedere ma anche di cose che si realizzano noi facciamo una straordinaria festa di sant'agata che non è una cosa che normalmente accade come santa rosalia a palermo altre bellissime feste perché abbiamo questa caratteristica un po un po del sud un po arabo un po di questa celebrazione del genere anche un pelino pagana che hanno meno al nord anche questo è un modo di attrarre il turismo noi abbiamo tanti tante possibilità di veicolare le positività di questa terra e devo dire francamente che noi lo ripeto parlando di quello che il nostro modus operandi noi cerchiamo di far sì che si possano conoscere tutte le cose che ci possono di positivo e il fatto anche per parlare della ferrari e il fatto che ci sei tu ospite proprio perché ti riconosciamo questa grande capacità di veicolare anche la nostra terra al nord perché tu porti sempre l'esperienza che hai maturato qui sul nostro territorio al nord e questa è una prova se ce ne fosse ancora bisogno di quello che dicevamo prima noi possiamo varcare tutti i palcoscenici possiamo mettere nelle condizioni di evitare alle ferrari di andare a dubai e di restare in sicilia perché il nostro clima è un clima aggiustiamo un po per gus e ce la possiamo stiamo un po per gus e riusciamo a risolvere anche questo problema allora il sogno dice qualcuno diceva qualcuno i sogni allungano la vita e noi diciamo che quando una cosa si fa con il desiderio veramente di realizzare qualcosa di importante prima o poi sogni si avverano allora il sogno di vincenzo gibbino è quello che condivide che condivido pienamente che sarà quello di portare la ferrari in sicilia per essere protagonista e per veicolare tutto ciò che la sicilia dimostra di avere e questo per l'italia quindi noi vogliamo creare questo ponte di collegamento ora vedremo se riusciremo a fare qualche cosa di più chiediamo ai nostri telespettatori di essere sempre sintonizzati intanto ringrazio vincenzo gibbino essere stato con noi grazie a voi ti avremo ospite in altre occasioni magari con qualche collegamento per farci quando sarai dentro l'auto ci mandi il telefonino ci fai vedere le immagini lo possiamo viviamo anche noi qui ti dico che la tecnologia da un anno a questa parte ti può far fare delle cose incredibili ecco viaggeremo anche noi in ferrari con vincenzo gibbino siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento leader vi do le coordinate per raggiungerci come sempre per i vostri consigli i vostri messaggi whatsapp 3792 24 24 20 è il nostro numero e poi redazione chiocciola spazionotizia.it scriveteci e avremo la possibilità di approfondire anche i consigli che vorrete farci per venire tramite i nostri canali grazie grazie a tutti voi per aver seguito appuntamento e come sempre alle ore 21 il lunedì il mercoledì ed il venerdì arrivederci